Si chiamano Anna Maria le carte? No, si chiama solo Anna, però Anna Maria... Non si fa di pantofole. No, grazie. Che follia. Allora. Un attimino, togliete le telecamere, posso toglierle? Subito. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo. Oggi siamo qua come vlog speciale perché ci hanno invitato qui gli ospiti di Psyco 93 e Matteo Rossi. Eccoli qua che stanno facendo esplodere qualcosa. Ti detto così sembra quasi che io e me. Non è che stiamo facendo esplodere. Ah, non dobbiamo dire. Perché c'è sto faretto qua. Perché è figo. E niente, e niente. Comunque come potete vedere siamo, abbiamo già allestito l'ora. Nello studio di Vago Matteo. Esatto, questo è lo studio. Grande studio allestito. Ne sei successo. No, anche perché dovrebbe riprogrammare e io risprogrammare. No, hai rismunchiato tutto, Ingridibull. No, ha sminchiato la titolatrice. No. Facciamo in NTSC così funziona. Esatto. Scusa un secondo, però se io faccio con la titolatrice in NTSC, così è palla. Ed è giusto, ma che... Cosa c'è scritto qua? NTSC. Ecco perché non lo riconosceva. No, vedi che la titolatrice però ti fa i caratteri sbagliati un po'. Sì, ma fa niente, non ci servono. Sì, lo so, sono veri. Ho parlato addirittura a contatto di telefono. Cos'è quell'interruttore? Quale? È questo, è l'interruttore per il libido telefonico. Telefone per bellezza. Allora, tu chiami, io ti rispondo con la cornetta, poi ti dico, ti metto in diretta e attivo con questo tasto il libido telefonico che sta sotto al mix. Infatti il switcher è un attivo di interruttore, quindi quando switcher si accende e manda il segnale. E ovviamente sulle casse si sente a tutti. Ma che figata, eh. Dicevi no. Infatti era di fianco all'altro telefono, come ti dicevo l'altro telefono. Ma ci mettiamo il bianco o il no? Il rosso. Ma si vede, si vede. Questa è la cassetta sacra con il tra poco saremo in diretta, appena registrata con musica Vaporwave no copyright. Ah, bella. Così mi ragione probabilmente la volta scherzo. Perché l'anno scorso ci hanno bloccato la live. No, dai, sì, sì. Sfile. 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 Ma concertiamoci su Anna, non fa? Una piccolissima pausa e... Andiamo in stop per due minuti e poi torniamo tra voi, tra noi Abbiamo preso l'uscita del videoregistatore, passo la televisura e la è fatta la prensi Abbiamo preso l'uscita sbagliata Tanto si deve Va bene Tanto Sai che prolunga di ****? Questa che abbiamo fatto Che fa schifo Ma chi è? Chilometri Non importa Non va bene lo stesso tra l'altro Non va bene, mi sembra un maschio maschio Voi state vloggando tutta questa roba Bravi Almeno qualcuno se ne ricorda Ok, ok, ok Ok, perfetto Ci siamo Dammi il mago No, no, no C***e di qua Muovi Non va neanche più qua È normale, c'è il videoregistatore con il contatto di m***a Aiuto Come c***o il ****? Sto mi direi di spaventare Ok No, stai A posto Ok, in posizione In posizione Tiragli a questo legattismo Ma senta Le serie A posto Ci siamo Ci siamo 3, 5, 4, 3, 2, 1 In onda Siamo tornati Siamo tornati tra voi Scusate del piccolo inconveniente Ma i nostri tecnici hanno avuto un piccolissimo problema con la titolatrice in onda Scusate del piccolo Scusate del piccolo Strappo Oh Stai Grazie Stai Sei veramente incredibile Si la mia mano Scusate E' Tony la sfida E' non riesco a sfida Da che posso farla cadere per... Stavola per... E' ma che te lo stai messo tanto Non hai capito Stai mi fai cadendo E' con questo signori che questa live si può concludere qui Grazie di averci seguito Il vostro mago Tira via le carte E tutto lo staff qua presente vi augura buon anno per questo 2019 Pieno di sorprese E pieno di scritti falsi E voglio dire di molti scritti nuovi Di grandi cose Tanto non c'è bisogno che uno di Fabio il microfono è qua Ah scusa Mi stavo dimenticando Si